Non sorprendono le dimissioni in considerazione di alcune divergenze che andavano avanti già da tempo, ma la tempistica. Questo il pensiero del rettore dell'Unical, Gino Miro Colcrisci, in riferimento alle dimissioni del pro-rettore Guerino D'Ignazio. Dunque un fulmine a ciel sereno proprio non è stato, ma certamente una decisione della quale si sta parlando tanto all'interno dell'Ateneo e non solo. Diciamo che me lo aspettavo in altri periodi, quando appena dopo l'elezione del direttore generale, lì me lo aspettavo. In questi giorni sinceramente, siccome non c'era stato nessun caso sbellio, una discussione, un'altra mattina quando è venuto al mio studio assolutamente mi ha sorpreso. Però che i rapporti non fossero buoni da qualche tempo, questo è un dato rifatto. Tutto risale all'elezione del direttore generale. Siamo tutti molto intelligenti, cerchiamo di capire perché la turbalenza è cominciata dall'elezione del direttore generale. E fino a qualche settimana prima andavamo tutti perfettamente d'accordo. Abbiamo letto il nuovo Consiglio di amministrazione in cinque minuti, con il voto unanime di tutto il Senato. Io lascio a voi tutti l'interpretazione di cosa, perché è nata questa turbalenza in concomitanza. E non credo per la persona scelta, perché è stimata a tutti, ma è perché si è voluto cambiare forse.